Ragazzi, ragazzi, guardate qua, quelli di Radio Vera, stavano per pubblicare un altro video sui nostri errori, ma io l'ho trovato in fine e li ho scaricati tutti qua. Grazie Paola, ottimo lavoro! Dai, 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 vengiamoci a cancellare prima che qualcuno ripubblichi. Fermi tutti, fermi tutti, ci penso io, il number one dell'informatica. Via, 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 cancellato tutto, via, tutto nel cestino. Fammi un po' vedere il numero uno dell'informatica, guarda qui, post pubblicato sulla nostra pagina Facebook. Insomma Paolo, dopo questi risultati noi vogliamo essere collocati qui in alto. Praticamente dobbiamo salire di livello. Esattamente, il nostro inquinamento. Ha sbagliato anche lui, allora. Hai provato ad andare al lago? No. Hai provato ad andare al lago? No. E anche adesso? Se vuoi. No. Ricorda, ricorda. Ricorda, se vuoi, da capo. Ricorda, se vuoi, puoi provare una giornata gratuitamente nel nostro centro. No. Ehi, tu, ma tu non dici niente, scusami, eh, ma non sei entusiasta? Eh? No, non vi facciamo. Ma scusa, ma tu non dici niente, un po' di entusiasmo. Non sei contento? Riapre palestra... Riapre palestra... Nessun problema. Palestra California è anche ambulatorio di riabilitazione e fisioterapia. Ho sbagliato. Vabbè, giuro. Cosa ci facciamo il 31 dicembre qui alla palestra a California? Ah, non ho detto mezz'amore. Vuoi avere... Da capo. Vuoi avere i capelli sempre in ordine anche dopo la tua seduta in palestra o in piscina? California Air ha ideato per te PIC Express. Facile. No. Niente. Non mi piace. Oh, Adele. Ah, beh... Aspetta, ok. Benissimo, allora... Rifacciamo. Io amo questa... Oh, ragazze, ma avete visto quante visualizzazioni abbiamo? Quante persone hanno visto i nostri video? Eh sì, in effetti abbiamo un buon pubblico. È l'ape. Aspetta. Benissimo, c'è l'ape? Perché adesso ti nasco a peccare. Grazie a tutti.